Sì, state vedendo benissimo. Quello che vi mostriamo è il pilomat che delimita l'ingresso di Piazza Castello. Le immagini che vedete si riferiscono alle 12.30 di questa mattina. A seguito delle denunce di Rete Veneta, che ha dato voce per giorni alle proteste dei residenti, il meccanismo è tornato improvvisamente a funzionare. Ma perché si è dovuto attendere tanto? Qual era il problema? Il problema è l'inerzia di questa amministrazione che rimanda, rimanda e poi solo quando è costretta, prende in mano le situazioni, prende provvedimenti. Il Consiglio Comunale in cui è stato sollevato il problema era del 6 di febbraio. Dopo i vostri ripetuti servizi in cui avete evidenziato le forti proteste dei residenti e anche effettivamente avete portato alla luce il problema, in data 6 di marzo finalmente hanno inviato una richiesta per far intervenire la ditta che ha provveduto alle riparazioni. Per spiegare le ragioni di questo ritardo, per mesi l'amministrazione si è nascosta dietro al costo necessario per la riparazione. La riparazione è costata 819 euro più IVA, quindi non era un motivo legato ai costi. È bastato riattivare il pilomat e come testimoniano le immagini, l'area di Piazza Castello si è improvvisamente svuotata di auto che abusivamente sostavano in zona. Ora resta aperta la questione della chiusura totale della piazza alle macchine e dopo la promessa del sindaco Poletto di far posteggiare i residenti in Terraglio. Ho sentito che il sindaco alle vostre telecamere ha detto che la soluzione sarà quella, quindi se sarà effettivamente l'alternativa Piazza Terraglio siamo tutti d'accordo.